Se le notizie che arrivano dal quotidiano sono sempre quelle che mettono in evidenza le divisioni, l'associazione IRDI Destinazione Arte, al contrario, attraverso la cultura, si propone di parlare di unione. Da questa idea del presidente e fondatore dell'associazione, Massimo Pasqualone, nasce il premio Adriatico, un mare che unisce. Giunta ormai alla sua terza edizione, in questa manifestazione vengono riconosciuti meriti a quelle personalità che si sono coltrandistinte ciascuna nel proprio ambito per la professionalità, i traguardi conseguiti e che rappresentano ogni singola regione che si affaccia sull'Adriatico, siano esse italiane che straniere. Per la regione Abruzzo, la cui referente è l'artista Maria Basile, ci sono anche premiati pelinni come il giornalista Ennio Bellucci, la pradolana Giulia Di Rocco e Chiara Tarquini. La cerimonia di premiazione quest'anno avrà luogo al porto di Termoli, proprio sulle onde di questo mare che vuole condividere eccellenza e cultura, incontrarsi per favorire l'unione come questo premio ci porta a ricordare.